Buongiorno a tutti, buon giovedì, ben ritrovati ancora una volta, siete qui con quelli del buongiorno, oggi è veramente un caos, Toto Stampazzini, proprio impazzisce oggi, Suami, buongiorno, ecco a voi Suami! E questo praticamente sarebbe il nostro buongiorno, il buongiorno, la benedizione della Santissima che se guarda la radio e che vuole cantare sempre, va, niente, per noi tutto il giorno è così, eh, non mi voglio di niente, e canta sempre, zitto, comportate bene, perché tu madre canta, ma guarda, la madre canta e questo è proprio un delinquente, io non so più come dobbiamo fare, ma guarda, allora, a parte la stanchezza che ci fa venitoto ogni volta, Santissima, buongiorno, anche la benedizione della Santissima stamattina, allora, sapete che in questo appuntamento noi facciamo anche tanti auguri a un po' dei pelosetti che confiano gli anni, vieni qua, Toto mi fai sempre i video corfiatone, guarda, e oggi dobbiamo fare tanti auguri a Michi di Taranto che compie due anni, poi ci abbiamo Pami di Roma, qui vicino a noi, che invece compie un anno, se non gli è dire il pupazzetto, lui strilla, capito? inizia a Bahia, poi ci abbiamo Susi, di Roma, che compie invece due anni, e tutto questo proprio all'interno del nostro pupazzetto della mattina, il buongiorno, con la Santissima, che sta cercando, Santissima, vuoi cantare? niente, sta cercando qualcosa, però si confia, si confia, vorrebbe tanto cantare, invece Toto è veramente sempre energico al 1000%, allora, ultimi auguri all'interno di questa mattina, li dobbiamo fare invece a un pelosetto che ha un pochettino di annetti, 12 anni per Frank di Reggio Calabria, un barboncino nero, che, ovviamente, oggi festeggia il compleanno, e i papi e i mamici hanno mandato un messaggio, proprio per augurare a loro, ma immaginate io come sto, praticamente, un te di mattina, guarda, che è una cosa difficilissima, allora, Toto, vai! La Santissima si è alzata, perché oggi piove, brutto tempo, Santa, sei veramente la più bella del mondo, facciamo e auguriamo una buona giornata a tutti i nostri amici, seguiteci, poi, a proposito, aggiungeteci tra le amicizie, fate quello che vi pare, aggiungete il laboratorio, perché noi siamo contentissimi di avere tante, tante amicizie, proprio per i nostri appuntamenti che facciamo nel corso della mattina. Vi auguro un buon giovedì, oggi il tempo non è bellissimo, però noi abbiamo, come già detto, il sole dentro, e questo sole dentro cercheremo di metterlo fuori anche in questo giovedì. Buona giornata a tutti, da Papi, Toto, che si è un po' fermato, e ve la faccio vedere subito, 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 la Santissima! Buona giornata a tutti, è il nostro buongiorno!